Io lo dico, col Bologna in casa vinciamo. Sì, questo lo penso anch'io da Toro Napoli. Guardate che all'andata con il Bologna non abbiamo giocato male al primo tempo. No. Non abbiamo giocato bene, anzi forse mi arrivavamo addirittura il vantaggio. Poi secondo te lo abbiamo staccato. Era un X grande come una casa. Una partita molto simile a quella con la Fiorentina che avevamo fatto. Ma se poi io... Guardi, il Toro le fa molto spesso simili le partite. Da questo punto di vista, siamo foto, fotocopia, fotocopia. Adesso non voglio banalizzare la tattica, non mi va, però... Appiattisci la partita, la buttisci il tema tattico, uomo uomo, eccetera eccetera. Poi se l'episodio è da far girare bene, vinci. Le avversari sono più forti, la perdi.